Io lo so perchè voi siete qua Siete qua per questo Sì signori benvenuti in un video io sono Emilio E oggi finalmente siamo trovati in questo video Tanto atteso e tutti voi Siete lì col turbante Che aspettate sto codice Topiatevi sto codice Ma sto vedo un cazzo Perchè poi non ho neanche grattato ancora Allora ragazzi prima di andare a grattare il codice Vi dico questo Io molte volte faccio le dirette su Twitch Quindi iscrivetevi Attivate la campanellina così non potete perdere niente Iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram Dove vado ad aggiornarvi su Esempio queste cose qua O qualcosa del genere Comunque non perdiamo altro tempo Che siete lì pronti Sì io voglio Voglio il codice Voglio il codice Che fia da questo codice Ed eccoci qua pronti con la manettina Da 50 centesimi Ma che schifo Questa monetina Per andare a grattare Questo cavolo di codice Però come cazzo faccio Se firmo e Ma che cazzo Non riesco a grattarlo Raga Ok Ce la fa Ce la fa Ce la fa Raga Ce la fa Ce la fa Ce la fa Non ce la fa Raga non c'è il codice Ah ok No perché Dicevo non c'è il codice Guardali lì Guardali lì Guardali lì Col turbante stanno A prendersi il codice Ok Ok Raga se capisce Se capisce Non se capisce Ok Tutto sul tappetino Fanculo Raga Questo è il codice Buoni tutti Corrette Sapete come riscattarlo Io non ve lo dico Va bene ragazzuoli Io Concludo qua questo video Spero ovviamente Che vi sia piaciuto Che questo regalo Comunque vi sia piaciuto Il più veloce Il più bravo Ce lo porterà a casa Beato lui E niente Io come al solito Vi ricordo di iscrivervi al canale Se lo commento Un mi piace Iscrivete anche la pagina Facebook Instagram Iscrivete anche la pagina Twitter E Twitch Anche su Twitch Perché faccio le dirette Su Twitch Non le faccio più su YouTube E niente signori Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao